Il Centro Medico Sant'Agostino è una realtà che nasce nel 2009 con l'obiettivo di offrire servizi sanitari di alto livello a prezzi calmierati. Siamo una realtà completamente privata, oggi abbiamo 10 poliambulatori, 9 a Milano e 1 a Bologna e fortunatamente cresciamo del 50% anno su anno, quindi siamo un'azienda in forte espansione. Abbiamo oltre 40 specialità e più o meno al giorno facciamo 2.000 transazioni, quindi mettiamo 2.000 fatture ai nostri pazienti, questo per darvi un'idea di quelli che sono i numeri del Centro Medico Sant'Agostino. Se proviamo a fare l'esercizio di proiettare questa crescita nei prossimi 5 anni, nel 2022 avremo più o meno 400 milioni di fatturato, collaboreremo con 10.000 medici in tutta Italia e i dipendenti saranno più di 2.000 dipendenti. Uno degli asset del Centro Medico Sant'Agostino sicuramente è la tecnologia, perché ci permette di avere un vantaggio competitivo, sia perché l'azienda può scalare e crescere, quindi la tecnologia può assecondare la crescita dell'azienda, e anche per i servizi che offriamo al paziente. Oggi offriamo tutta una serie di servizi, come la prenotazione online, il pagamento online, che sono simili ad esperienze come prenotare un biglietto aereo online fondamentalmente. Al Centro Medico Sant'Agostino siamo molto attenti all'esperienza del paziente, siamo molto attenti al fatto che lui possa sempre vivere una buona esperienza ogni qualvolta a che fare col Sant'Agostino, quindi sia in fase di prenotazione, che in fase di visita, che in fase di pagamento. In questo l'utilizzo di un software come SAP Business One ci ha aiutato a costruire, integrare, elaborare dei nuovi applicativi e dei nuovi metodi che aiutano il lavoro dei dipendenti del Centro Medico nel aiutare il paziente a compiere il proprio percorso. Sistat è il nostro partner commerciale per SAP Business One, ha seguito la nostra installazione sin dalla fase di startup fino ad oggi, dove noi continuiamo a sviluppare, migliorare e implementare delle soluzioni per un sistema sanitario e per un centro medico. In particolare Sistat sviluppa HIS, Hospital Information System, che ci permette di raccogliere tutte le informazioni del paziente, tutte le informazioni degli specialisti e dei medici. SAP Business One ci ha delle garanzie sui processi e sull'affidabilità e del nostro cuore pulsante tecnologico del Centro Medico Sant'Agostino.